Sono ormai bene in otto anni che vivo in Inghilterra, a Brighton, mia moglie è inglese, parlo inglese tutto il giorno, i miei amici sono inglesi, o meglio, sono internazionali, dal sud africano all'irlandese, lo scozzese, quello inglese, il Brighton nativo, il London Air, quello di Davon, insomma hanno tutti accenti diversi, il cui non si capisce una mazza, e guardo film sono in inglese, leggo libri sono in inglese, e nonostante questo, continuo a immergermi, il mio inglese fa ancora caghera. Un attimo solo però, prima di continuare, questo video offerto da me stesso, il tuo pelato preferito, se vuoi dargli un occhio www.competenze.online, se vuoi esplorare nuove competenze, oppure askmonty.it, se vuoi organizzare una zoom call con me o mandarmi un vocale, e poi la più figa del mondo che è 4books.com. Enjoy the video! L'inglese, l'inglese, il problema è quello lì, che tu ti abitui a un livello di decenza, questo è il grande problema, più o meno capisco, più o meno mi capiscono, più o meno parlotto, e ormai ho tutta una serie di errori che fanno parte del mio vocabolario, di cui però mi rendo conto quando magari intervisto qualcuno e cerco di andare a un livello un po' più alto di approfondimento, di utilizzo delle parole, è come se uno in italiano parlasse, si fa capire, lo capiscono, però parlare italiano così, io Montemagno e tu Piru Piru, ok? Ci capiamo, però non riesci mai ad andare a fondo più di tanto e vorrei approfondire, migliorare, allora ho deciso di mettermi alla prova e poi ho cominciato a studiare inglese e vi dico che cosa sto facendo, sto facendo due cose che mi sembra che stiano cominciando a dare i primi risultati e ve le dico e vi terrò aggiornati su questo cammino, se anche voi volete magari migliorare il vostro inglese, diamoci dei suggerimenti a vicenda, ecco non ho delle risposte, peraltro non ho nessun tipo di rapporto con le due app che adesso vi cito, zero, se ne avete delle altre migliori ditemele, segnaliamocene, l'obiettivo tanto è comune, imparare tutti meglio l'English. Allora, numero uno, ho assoldato un coach a distanza, un insegnante in remoto, sono andato su una piattaforma che si chiama Italki, o Italki, comunque Italki, abbastanza ben fatta, c'è una marea di gente che insegna, puoi vedere un po' le recensioni, un marketplace di insegnanti per diverse lingue, ti prenoti le tue lezioncini, puoi fare lezioni di prova, ti colleghi tramite la piattaforma con il tuo prof e a quel punto via così. Diciamo, voto alla piattaforma sei e mezzo, ecco, fa quello che deve fare e non so quali siano i rapporti, non so quanto tenga di margine rispetto agli insegnanti, però devo dire io ho trovato un ottimo insegnante, bravissimo, mi piace molto, mi piace molto il suo approccio, in generale le chiacchierate che faccio con questo mio maestro mi divertono perché mi rendo conto che lui ne sa molto più di me, più o meno di tutto, anche di quelle che sono le mie attività, anche se parliamo di marketing, anche se di qualunque cosa, ne sa molto più di me. E allora è interessante, insomma, fa da psicoterapeuta, consulente di business e di tutto, è un fenomeno, non lo so, e gli ho detto ma scusa ma perché fa l'insegnante d'inglese? Ancora non me l'ha spiegato perché, però finché fa l'insegnante d'inglese devo dire molto bravo e facciamo queste chiacchierate dove cerca di farmi capire i principali errori di grammatica, la mentalità giusta, cercare di avere una buona fluenza, come si dice in italiano, fluently, because you see now I only speak English, you know what I'm saying? Insomma, cerco di essere un po' fluente, però non è facile, si arrabbia ogni tanto perché non faccio i compiti a casa, infatti non faccio mai i compiti, ma su questa seconda cosa dei compiti, ogni tanto, non sempre devo dire, sono abbastanza a targhe alterne, però utilizzo quest'altra app che mi sono installato, Memrise, Memrise, dove in pratica ce l'ho qua davanti, puoi farti le parole, le frasi, impara la grammatica e devo dire un'app ben fatta, ripeto non li conosco, non so chi diavolo siano, che tipo di, insomma, però devo dire ben fatta per il mio utilizzo, c'è una versione gratis e una a pagamento e la cosa carina, divertente è che poi puoi ascoltare tutte le varie pronunce, è molto gamificata, ecco, mettiamola così, per le varie frasi ha dei video o delle frasette con la gente che le ripete uomini, donne e poi ti indica la parola in italiano e ti fa capire se la dici giusta, te la ripete, ha tutta questa parte qua, quel buttafuori ce l'aveva con me, ci sono queste frasi improponibili, in genere ho notato che parlano spesso dei pub e di bere, non so se questo faccia parte della cultura inglese, fa parte della cultura inglese, questo è quello che sto facendo e l'idea è, un paio di volte alla settimana faccio la chiacchierata con il mio insegnante che cerca di darmi un po' di spiegazione, un po' di ritmo, un po' di comprensione, ecco, maggiore comprensione rispetto alla lingua e dall'altro lato quando c'ho la pausetta o 15 minuti o sono in bagno o sono a girellare, a quel punto con questo Memrise e Memrise mi faccio qualche test e assimilo un pochino. Per me devo dire, il problema non è tanto la comprensione, a parte gli accenti quelli difficili, tipo quello irlandese, scozzese che a volte fai veramente fatica, ho anche alcuni magari sudafricani stretti o no a Zeeland, insomma hai degli accenti difficili, come in italiano se senti uno milanese stretto, napoletano, siciliano, hai degli accenti complicati, insomma che non sono facili a capire. Però il mio problema in genere non è quello, è più un problema che ho radicati dentro di me alcuni errori che per me sono invece il modo giusto di parlare e la struttura dell'italiano è sempre più o meno riportata in inglese. Allora la grande sfida, oggi che devo affrontare popolo, riunitevi con me, è quella di unwired, di ricodificare il mio cervello, di togliere gli errori, ripulirlo per avere una visione più corretta della lingua. Insomma, questo è quello che sto facendo io, ditemi quello che state facendo voi, perché comunque imparare una lingua importante, a prescindere dai traduttori automatici, da tutto quello che poi sarà o è, però insomma imparare una lingua importante ti dà un approccio diverso e in fondo, come dice il detto, un uomo che conosce due lingue vale due uomini. Io che faccio ormai fatica anche con l'italiano quanto vale, non lo so.